Artista esistenzialista, buona giornata a tutti. Allora, abbiamo detto qualche minuto fa, com'è le colpette? Di zucchine. Di zucchine, sì. La parte più bella è questa qua, no? Vi facciamo vedere com'è un pochettino proprio da vicino, la colpette di zucchine. Eccola qua. Allora, signori, la consistenza è morbida. Vedete, il pezzettino di cipolla, il verdognolo della zucchina. Vi dovete credere, sì. È poesia, nel senso che c'è questa doratura, all'interno è soffice, qualcosa fuori dal mondo. Quindi, facciamo un discosto di palati sopraffini, no? No, quantomeno. Allora, ripeto, c'è la doratura, il profumo, qualcosa fuori dal comune. È il mio colpette che dirà che io non ti maglirò mai. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.